La cocente in meritata sconfitta di Favara va subito dimenticata. Una partita ormai vinta e persa nei minuti finali grazie a due gravi errori difensivi all'ottantottesimo e al novantaquattresimo. Capitolo chiuso dunque e squadra concentrata in vista dell'impegno di Domenica sul terreno insintetico di Campofranco. L'avversario di turno sarà l'oratorio San Ciro e Giorgio Di Marineo, un avversario tosto e bene attrezzato che naviga nelle parti alte della classifica. Ci vuole dunque la massima concentrazione per tornare alla vittoria che manca ormai dal 2021. Una lunga astinenza che i biancoscudati di mister Bognanni sperano di interrompere proprio contro la squadra palermitana che vinse la gara d'andata per 2-1 con i biancoscudati che fallirono negli ultimi minuti dal dischetto il calcio di rigore per il pareggio con Mario Secan. Quando siamo ormai praticamente a 48 ore dal match, il tecnico biancoscudato è alle prese con il dubbio Omar Diop. Il forte difensore senegalese che ha lasciato il campo nel primo tempo a Favara soffre di una contrattura e nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni esami clinici per comprendere l'entità dell'infortunio. Dovrebbe non essere nulla di grave, in tal caso il difensore potrebbe anche essere convocato per domenica, ma soltanto se un suo eventuale impiego non aggraverà ulteriormente lo stato fisico del giocatore. Confermatissimo in avanti dovrebbe essere l'uruguaiano Guillermo Rizzi, protagonista di un'ottima prestazione a Favara, dove ha messo in mostra qualità sia tecniche che temperamentali. Problemi invece per Mattia Retucci che soffre di un'infiammazione alla gola che lo ha debilitato negli ultimi giorni. L'attaccante comunque stringerà i denti e sarà in campo domenica. Torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica Matteo Bisogno che potrà essere schierato al centro della difesa in caso di defezione di Omar Diop. Per il resto confermato anche il centrocampista albanese Brace e che a Favara è stato tra i migliori in campo insieme al capitano Gianluigi Illario in ottima forma e che ha sfiorato il raddoppio con una gran conclusione dalla distanza che però si è stampata sulla traversa e poi sulla linea di porta.